Ciao e bentrovato. In questo video vedremo qual è il vero rischio di fondi comuni di investimento e come puoi fare per gestirlo. Ti anticipo che non si tratta della possibilità che il fondo fallisca o vada in default, perché questo è un pericolo scongiurato dalla presenza della banca depositaria e di una regolamentazione apposita, severa e rigida. Sono Giacomo Saver, l'ideatore e il docente di A Scuola di Investimenti. Il mio lavoro consiste nell'aiutare le persone con un patrimonio complessivo pari o superiore a 100.000 euro e deluse dai consigli interessati della propria banca a investire in modo consapevole, semplice e indipendente. Negli ultimi anni ha aiutato più di 6.000 persone ad aumentare il rendimento dei loro soldi riducendo rischi e abbattendo i costi grazie al corso gratuito a scuola di investimenti. I fondi comuni sono semplicemente dei contenitori di strumenti finanziari gestiti o meno da un professionista che hanno come riferimento un mercato sottostante nel quale impiegano le disponibilità economiche del fondo stesso. Ovviamente il tutto viene nel rispetto del regolamento del fondo, per cui ad esempio un prodotto obbligazionario non potrà avere come riferimento un mercato azionario o in qualche modo investire in azioni. Esistono due modi in cui il gestore può muoversi. Il primo di essi consiste nell'allearsi con il mercato al fine di generare un rendimento uguale a quello del mercato stesso, senza puntare a fare meglio, correndo però rischi maggiori. Gli Exchange Traded Funds sono fondi a gestione passiva che ti permettono di investire in un portafoglio di strumenti finanziari a costi bassissimi, pari a meno di un decimo rispetto alle commissioni che paghi sui fondi tradizionali. Puoi investire in ETF direttamente attraverso la tua banca qualunque essa sia, perché essendo strumenti quotati su Borsa Italiana sono acquistabili da qualsiasi piattaforma. Lo scopo della gestione attiva consiste nel permettere agli investitori di ottenere rendimenti superiori rispetto a quelli mediamente offerti dal mercato in cui un certo fondo investe. Mentre il gestore passivo per definizione ti garantirà una performance identica pari a quella del mercato sottostante, il gestore attivo cercherà di fare meglio e per questa ragione si farà pagare di più, richiederà una commissione maggiore come compenso per l'attività di analisi e di ricerca svolta proprio nel tentativo di battere il mercato. Purtroppo solo un gestore su 10 riesce a generare alfa. La maggior parte di essi produce rendimenti che sono sistematicamente più bassi rispetto alla performance offerta dal mercato sottostante. Come avrai capito, il vero rischio dei fondi comuni tradizionali a gestione attiva consiste nella possibilità che gli stessi generino rendimenti deludenti una volta sottratti tutti i costi. sarei disonesto nei tuoi confronti se ti dicessi che nessun fondo riesce a ottenere degli extra rendimenti ovvero abbattere il mercato. Purtroppo però solo pochissimi lo fanno e cosa più grave i vincenti di domani non possono essere individuati oggi in anticipo. Il tracking error è un termine complicato per esprimere in realtà un concetto semplice. Se il fondo che hai scelto è a gestione attiva è normale che i suoi rendimenti siano distanti rispetto a quegli offerti dal mercato altrimenti che gestore attivo sarebbe? Inoltre per alcuni periodi il fondo potrebbe rendere meno del mercato sottostante generando un tracking error negativo. Il tracking error non va valutato giorno per giorno, ricordalo, ma nell'arco di un tempo sufficientemente lungo. In Italia purtroppo abbiamo diversi casi di fondi apparentemente a gestione attiva che di fatto replicano l'andamento medio dei mercati sottostanti. Questi prodotti che di fatto sono gestiti in modo passivo ma hanno dei costi degni della migliore gestione attiva produrranno rendimenti deludenti nel corso del tempo. Se sceglierai di investire in fondi comuni tradizionali fai bene attenzione all'andamento del tracking error per valutare la bontà della gestione. È inoltre importante che tu conosca la filosofia di investimento che guida le scelte del gestore per essere d'accordo con l'operatività di chi di fatto avrà il controllo dei tuoi soldi. La seconda alternativa è quella di usare dei prodotti passivi a basso costo come gli ETF all'interno di una tua strategia di investimento. In questo modo ottimizzerai i costi, avrai processo sotto controllo e non soggiacerai a nessun rischio gestore. Realizzare un obiettivo così ambizioso è più semplice di quanto tu creda grazie al videocorso gratuito in 5 lezioni a scuola di investimenti che trovi andando sul link segretibancari.com slash a scuola di investimenti. Se hai domande o dubbi commenta questo video, metti mi piace se ovviamente ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici se lo hai trovato interessante.